Via Libera della Giunta Comunale di Battipaglia al protocollo d'intesa con la Regione Campania per la bonifica dei siti di stoccaggio di Castelluccio e Buccoli. I due interventi rientrano nel piano regionale di bonifica e saranno effettuati sulla base dell'accordo sottoscritto lo scorso 2 ottobre, che ha delegato a Palazzo Santa Lucia a porre in essere tutto quanto ritenuto necessario per avviare ed espletare le operazioni di rimozione dei rifiuti. I lavori che saranno avviati a breve prevedono la bonifica dei siti di Buccoli e Castelluccio. Quest'ultimo sito, 12.000 m2 in tutto, preoccupa non poco i tecnici, vista la presenza di idrocarburi e sostanze tossiche.